E oggi facciamo un occhio per i miei angioletti, con due semplici linee steggia a buon punto Poi facciamo un cerchiolino per l'iride e uno più piccolo per la pupilla Io parto dal bianco e poi un po' di grigio Tre toni di blu per l'iride, che è lo specchio dell'anima per i piccoli demoni Sotto la palpebra è sempre più scuro, mi raccomando, con un po' di nero ci aiutiamo I dettagli li mettiamo dopo e un po' di china per la pupilla Pena giallibianca per i riflessi e poi ripetiamo anche di là Diamo un po' di anima al disegno e abbiamo finito, sul canale trovate il tutorial completo